Perde il controllo della sua auto e finisce in un fossato. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza, un 22enne finito fuoristrada attorno alle 5 di questa mattina in via Ponte Streghe a Bressanvido. Per estrarre il giovane dalle lamiere si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Immediatamente trasportato al nosocomio di Vicenza, al giovane è stato riscontrato un grave trauma toracico ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Sul posto anche i carabinieri, cui spetterà ora di ricostruire la dinamica dell'accaduto.